Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge per istituire l'Azienda Zero, presentata dal gruppo Lega, primo firmatario il capogruppo Alberto Preioni. Il provvedimento costituisce un'azienda sanitaria, la Zero appunto, per ordinare al meglio le asle piemontesi e fornire all'assessorato una struttura in grado di gestire la complessità della sanità messa a dura prova dalla pandemia. L'assessore regionale alla sanità Luigi Icardi ha ringraziato l'Assemblea per il lavoro svolto, sottolineando che con l'Azienda Zero la regione si dota di uno strumento indispensabile che darà maggiore efficacia e organizzazione alla sanità del Piemonte. La nuova struttura è pensata per garantire lo svolgimento e il coordinamento regionale di molte attività. Le sue funzioni vanno dalla gestione dell'emergenza extra ospedaliera e delle attività del 118, del numero unico di emergenza 112 e del 116-117, sino alla centralizzazione e programmazione degli acquisti per le aziende sanitarie. La sanità piemontese si dota di uno strumento per poter affrontare le sfide della moderna sanità, per poter funzionare meglio e per colmare quei gap strutturali di un sistema precedentemente asilos che va superato attraverso maggior coordinamento. Permetterà di accentrare in un unico luogo alcune funzioni che prima erano gestite separatamente dalle varie ASL. Significa fare economia di scala, fare più efficienza e quindi lasciare le varie ASL più libere di pensare invece alla salute dei cittadini. Su Azienda Zero vediamo ancora tante ombre e poche luci. Abbiamo lavorato per snellirla e migliorarla, ma ci sono ancora dei punti importanti che ci preoccupano. Uno su tutti i processi di acquisto che verranno centralizzati. L'ente avrà anche tra i suoi compiti il supporto e coordinamento della rete logistica distributiva alla gestione e lo sviluppo del sistema informativo di telemedicina, nonché il coordinamento in materia di medicina territoriale, con particolare riferimento alla presa in carico e gestione dei pazienti fragili cronici e di continuità ospedale-territorio e delle attività legate all'assistenza primaria. È previsto a tal fine lo stanziamento di 646 mila euro per il 2021, di circa 3 milioni per il 2022 e di 587 mila euro per il 2023. Nelle dichiarazioni di voto Andrea Cerutti, Lega, Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia, Paolo Ruzzo, la Forza Italia hanno accolto con favore il provvedimento. Perplessità nei confronti della proposta di legge sono state invece mosse oltre che da Raffaele Gallo, anche da Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle e Marco Grimaldi, Libri Uguali Verdi.